Madi è l'ultimo arrivato alla casa di Tony, ha solo dieci giorni e la mamma, una giovane donna nigeriana che è stata accolta poco prima di dare alla luce il piccolo, lo affida alle braccia dell'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe. In questa realtà di Santa Maria degli Angeli alle Croci, sostenuta dalla Fondazione Il Nome della Vita, nata proprio dalla volontà dell'Arcivescovo Metropolita, oggi sono ospitate 15 mamme con i loro piccoli. Un angolo di paradiso per giovani donne che hanno conosciuto l'inferno dell'abbandono e della sofferenza. Oggi, come ogni anno, la consiglia di chitte scolastici e bambini del quartiere, quaderni, penne, matite, colori e squadrette, la cancelleria che serve per affrontare il nuovo anno, almeno per i primi mesi, accanto all'Arcivescovo Donna Paola Grimaldi, presidentessa della Fondazione Grimaldi Omnus, e la signora Lucia Caffarelli, moglie del patron del gruppo Tufano, ma anche la scienziata Anna Maria Colau, oltre ai vertici della fondazione. È come se si aprisse il cuore, non solo del bambino, che si sente in qualche maniera preso in considerazione, aiutato, ma vaginiamo i genitori, i parenti, quelli che costituiscono il mondo del bambino, vedere un bambino allegro è come vedere il mondo sorridere. E' vero che la casa di Tonia è una delle realtà che a lei è più care tra tutte quelle che lei ha promosso? Ma la casa di Tonia, sapete, nacque da questa urgenza, da questa necessità, di evitare che tante donne, soprattutto allora straniere, non sapevano dove andare, cosa fare. E soprattutto si correva il grosso pericolo di farle abortire. Allora trovare una casa dove potevano essere accolte, indipendentemente dalla loro fede, indipendentemente dal loro credo, trovare una casa che accogliesse e desse assistenza a loro e ai bambini. E qual è la caratteristica? È quella di non separare la mamma dal bambino, in modo che possano stare insieme. Cioè nella cameretta c'è il letto della mamma, ma c'è il lettino anche del bambino, perché se no si creava un altro dramma, separando la mamma dal bambino, la mamma in una parte, il bambino in un'altra parte, noi avevamo creato un altro dramma. Invece così si cerca anche di farli vivere insieme e crescere insieme.